Le forze politiche pesaresi d'opposizione si uniscono nella richiesta della legge sul salario minimo. Fino al 23 settembre sarà infatti organizzata a Pesaro una fitta rete di banchetti di raccolta firme, specifica per ogni partito, ma a sostegno della proposta unitaria di introdurre il salario minimo a 9 euro l'ora in Italia. Una proposta di coesione su un tema sociale partita da un'idea dell'assessora Francesca Francoellucci, recependo la linea conte del Movimento 5 Stelle. Abbiamo deciso di portare avanti questa iniziativa a primo firmatario conte per divulgare al massimo l'iniziativa, una battaglia che comunque portiamo avanti da tempo, al 2018, che è quella del salario minimo. Credo che sia un tema unitivo di tutte le forze politiche, a cominciare da quelle dell'opposizione. Credo che è un tema importantissimo perché si risponde con un intervento sui salari, a partire da quella che è la soglia minima, per poter dare risposta alle famiglie in grande difficoltà economica per tutta una serie di motivi, dalla post-pandemia, la crisi energetica, il caro bollette, l'inflazione. Credo che è un punto di partenza perché mettere mano ai salari è una questione di civiltà oggi. È un primo passo di dignità, minimo salariale può essere solo un punto di partenza, ovviamente non è il punto d'arrivo. Molte altre cose andrebbero fatte ma credo che questa sia una battaglia doverosa e noi ci siamo sempre stati e ci saremo. Ovviamente non è la panacea di tutti i mali, sappiamo che ci sono i problemi della stagnazione del salario, del lavoro nero, della sicurezza sul lavoro, quindi non risolve tutto. Ovviamente poi dobbiamo anche con questa proposta di legge conformarci e rispettare il volere dell'Europa perché c'è una direttiva europea del 2022 che ci chiede di approvare il salario minimo come gli altri 22 paesi dell'Unione Europea. L'azione è abituata ad andare sui contenuti, visto che questo contenuto ci unisce siamo ben felici di fare qualcosa insieme, poi il resto è totalmente indipendente da questo. Il salario minimo si può fare e si deve fare, si può fare da un punto di vista economico come dimostrato non solo dall'esperienza di altri paesi a noi vicini ma anche dallo studio di importanti autorità macroeconomiche anche a livello europeo e si deve fare per una ragione morale e sociale.